L'autista riporta che ha sentito un rumore dietro la cabina e subito dopo 5-10 secondi ha visto del fuoco. E' riuscito a uscire dalla galleria e adesso abbiamo spento l'incendio però bisogna vedere perché sotto c'è ancora del materiale che sta prendendo fuoco. Quindi dobbiamo mettere tutto in sicurezza e comunque sarà abbastanza lunga la riapertura. Non meno di due o tre ore. Con quante squadre avete operato e che materiale potrebbe essere? Il materiale stiamo verificando potrebbe essere materiale plastico granulare e abbiamo operato con quattro squadre. Imperia e Sanremo. Ci sentiamo dopo per un aggiornamento. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti.